Si chiude con Guerzoni e la tappa dedicata agli eventi e manifestazioni l'ultimo dei tre appuntamenti di strategie e strumenti per lo sviluppo turistico della città il percorso di lavoro e approfondimento promosso dall'assessorato della cultura e turismo che sabato 18 marzo dalle 9 alle 13 nella sala verdi del teatro della fortuna sarà dedicato al tema turismo ed eventi Al tavolo dei relatori siederà infatti l'economista della cultura, il professor Guido Guerzoni docente di Museum Management all'Università Luigi Bocconi di Milano Fanno una città molto viva, molto attiva, piena di iniziative si tratterà di cercare di comprendere quelle che fanno bene alla città nel senso su cui investire e potenziare se manca qualcosa come sicuramente sarà perché evidentemente siamo in un processo di perfezionamento delle cose che si fanno ma soprattutto grazie all'aiuto di Guido Guerzoni che è un docente di queste cose alla Bocconi di Milano ci darà, come abbiamo fatto con gli altri due interlocutori in passato una panoramica con occhi esterni che studia la nostra realtà da fuori con competenza per indicarci suggestioni, propositi che verranno messi a confronto con la gente L'imperativo è dimenticarsi delle ampollose lezioni accademiche quella di Guerzoni, professore Labocconi dal 1996 collaboratore RAI e protagonista di numerosi convegni e master sarà una carrellata di spunti, esempi, numeri una girandola di suggestioni e suggerimenti per Fanno di museo e management all'università di un cipocone di Milano Grazie a tutti